Musica Io credo che soprattutto dalla relazione del Presidente Simoni sia uscito un segno positivo, un'indicazione positiva per il futuro. Musica Abbiamo avuto il piacere di avere degli ospiti che hanno carattura internazionale. Musica Quello che abbiamo scoperto in questi anni è che siamo globali ma è fondamentale essere anche locali. Musica Abbiamo scoperto che è fondamentale poter essere sui mercati del mondo e vale per le grandi aziende ma vale anche per le cooperative del Trentino, ma abbiamo anche scoperto che bisogna sempre avere una strada di sicurezza sul locale perché il mondo può cambiare e si può trovare in affanno. Musica Abbiamo dentro noi delle capacità, gli imprenditori, le istituzioni economiche, le istituzioni pubbliche di reinventarsi in un quadro molto insicuro e molto incerto. Musica Questa era la giornata di festa della cooperazione ma era anche la giornata di riflessione sui grandi temi del nostro tempo, quindi sui temi della denatalità, sui temi della geopolitica, sui temi di ciò che accade intorno a noi, rispetto a quale noi dobbiamo stare molto attenti ed essere in grado di allineare l'attività delle nostre cooperative al cambiamento che è in corso ed essere parte della trasformazione. Musica Musica Musica